Ciao Cristiana. Ciao Alessandro. Ciao, ciao, è un piacere averti qui e ho sentito con grande piacere questo nuovo singolo che non vedo l'ora di conoscerlo da vicino e farlo conoscere da vicino si chiama Ho finito le canzoni. Esatto. Come mai questo singolo? Come mai questo titolo? Come mai questo singolo? Tutto, tutto. Come mai? Allora, questo singolo nasce in un periodo che ha accomunato tutti. Ero al pianoforte e avevo il timore di non riuscire più a scrivere nulla e così mi sono messa al piano e la prima cosa che mi è venuto il sentivo dire è stato Ho finito le canzoni. È stata questa cosa qua, quindi il testo già accompagnato dalla melodia. Poi in realtà diciamo che nel mentre scrivevo la canzone poi mi ero accorta che in qualche modo le canzoni nonostante tutto non le avevo finite. Quindi poi è rimasto quello il titolo perché comunque rappresentava un momento che ho vissuto di paura e poi insomma ho deciso di produrlo. La produzione è a cura di Filippo Bubbico. È una canzone che hanno suonato tre musicisti che è Filippo che ha suonato le chitarre da prodotto e Antonio De Donno che è il batterista che insomma suona con me nei concerti e anche Davide Codazzo il bassista che insomma sono due elementi della della band. Quindi comunque è voluto raccontare una storia che magari hanno passato molti di questa storia diciamo ai titoli di coda quindi che hai vissuto. Quindi parliamo di una storia biografica. Ma in realtà no. Cioè nel senso ho voluto raccontare una una storia che hanno vissuto in tanti. Io l'ho vissuto l'ho vissuta però non recentemente ecco. Quindi non era una qualcosa di di fresco. Sì praticamente tutto sta nella nella frase e manca meno di un minuto dalla fine l'ultima scena una battaglia di parole. Quindi quando comunque una storia d'amore è veramente agli sgoccioli e da ambe le parti insomma questa cosa si sa ma non si dice o non si vuole ammettere no? Quindi quella fase la quella fase zero in cui stai staccando in qualche modo il cordone ombelicale con con la persona con cui sei stato. Poi parlo di parlo di si parla di storie importanti e non parlo di storie di quelle storie che ti consumano in qualche modo. E racconta questo. Cioè racconta appunto la propensione che si ha verso il futuro no? Il fatto come si sta aggasati nel ricominciare da capo però poi c'è sempre la nostalgia che non ti lascia stare. Ma quindi parliamo di della fine di un sentimento che quindi può finire un sentimento non per forza che ci sia la vita tra le due parti. Ma noi in realtà non parlo della fine di un sentimento parlo proprio della fine di una storia perché molto spesso accade che due si lasciano nonostante ci sia ancora il sentimento no? Può capitare può succedere anche questo. Le persone magari si si ameranno per la vita però non hanno non hanno le carte per stare insieme. Ok. Quindi io parlo proprio del del fatto di del della scadenza del rapporto ecco non non del sentimento. Però io ho notato che molti hanno paura appunto nel ricominciare perché ad esempio ci sono amici che ho sentito dire adesso come devo fare a riapporciare che non so più come si fa. Ma erano uomini sicuramente. Non lo so io penso che di solito non faccio mai distingo di genere eccetera eccetera però forse in questo caso un pochino almeno per per le esperienze che ho avuto io diciamo nel 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 vivere in terza persona altre storie mi accorgevo che comunque le donne si soffrono però hanno quella spinta in più no? Rispetto magari a un uomo che all'inizio c'è c'è quella fase di. Non so più come si fa. Esatto esatto esatto. Va bene va bene va bene allora ovviamente parliamo del genere musicale quindi questo singolo è voluto fare usare questo sound qui per accompagnare questa tematica come mai la scelta di portare questo sound? Allora la scelta nasce dal fatto che mi piaceva l'idea che quello che questa canzone la prodotta Filippo però la prodotta suonandola cioè suonandola con la band quindi mi piaceva l'idea che rimanesse quello stampo così live ci abbiamo aggiunto pochissimo diciamo di post di post produzione diciamo così la base quindi batteria basso chitarra era quella che abbiamo sempre fatto durante i live e poi abbiamo messo qualche coretto dei pad che che sono quasi impercettibili quindi comunque lo stampo è quello della della musica live della musica suonata c'è poco di elettronico ecco ok io posso fumare nel tempo certo 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 come se fossimo al bar non ti preoccupare ok ovviamente a me mi piace molto soffermarmi su quello che mi hai detto all'inizio che quindi c'è stata un po' di paura nel non sapere cosa scrivere più non sapere cosa produrre come si supera questa paura perché molti hanno passato questa difficoltà nella pandemia quindi in un momento di tristezza non avere più l'ispirazione nel scrivere nuovi brani tu hai avuto diciamo questa defiance quest'anno da quello che ho capito no no non ho specificato era questa canzone nasce durante la pandemia proprio ok ok quindi come legata a quel periodo ma io penso che alla fine si superi semplicemente scrivendo cioè mettendosi giorno per giorno a continuare a scrivere perché alla fine se ci si arrovella troppo nel non riesco non ce la faccio nel frattempo ti sei messo magari sicure cose brutte però l'esercizio conta tanto nella scrittura come conta l'allenamento per un calciatore conta allenamento di scrittura di composizione per per un cantatore per una cantatrice per un compositore insomma per per qualsiasi creativo ok ok quindi cosa ci dobbiamo aspettare nel 2023 da cristiana allora sto scrivendo il prossimo album ovviamente alcune cose le ho già scritte e sto cercando di asciugare quanto più possibile io ho fatto diciamo un processo inverso perché è molto più difficile asciugare il primo album nel 2017 e non è molto proprio tantissimo ermetico però ci sono dei brani che sono più impegnati diciamo così il penultimo album ho asciugato quindi è diventato semplice che non vuol dire assolutamente essere banali comunque cerco sempre un modo originale per dire delle cose adesso voglio asciugare ancora di più che paradossalmente più complicato dire le cose in modo semplice ma per rendere più percepibili al pubblico perché è notato che non riuscivano a percepire meglio il messaggio nei brani comunque il mio pubblico è molto un pubblico a cui piacciono tanto i testi non è quello proprio è una ricerca mia ok soprattutto perché nel insomma dopo tanti anni di musica e di canto autorato le cose sono saggi tantissime cose proprio parlo di incastro di parole sono sono state già fatte no quindi banalmente se io voglio dire mi manchi e devo trovare un modo originale per dirlo ma certo e questo questa è la sfida diciamo ecco quindi comunque raccontare in maniera un po più leggera esatto sì leggera ma comunque allo stesso tempo profonda quindi passare da un canto torato magari classico di allora come un De Gregori a un canto torato più moderno come un Cremonini no non riesco a definirmi né né in passato come De Gregori mi azzardo proprio come Cremonini oggi un mio modo di dire le cose semplicemente ok ok quindi parliamo di live si vedremo live quando allora io il prossimo appuntamento ce l'ho a Roma al in una delle sale dell'auditorium del parco della musica e con tosca sarò l'ospite di una delle delle cinque giornate di tosca ma c'è stata quella collaborazione esatto che coroneremo in questo concerto la data non si può dire sarò in uno di di quei cinque giorni con carolina bubico come è nata questa collaborazione dai parliamo di questa collaborazione comunque molto speciale con tosca ok io carolina siamo oltre ad essere colleghe siamo molto amiche è una giorno stavamo così senza fare niente ci siamo messi al piano ed è nata terronda è nata prima la melodia poi abbiamo scritto il test quindi volevamo una sorta di benedizione su questa canzone e abbiamo abbiamo contattato tosca la quale ha ascoltato il brano le è piaciuto era comunque nelle nelle sue corde perché terrona è un brano diciamo che abbraccia il mediterraneo nelle sonorità e anche nella nel testo perché scritto in nell'idioma salentino e lei ci ha detto di sì insomma e poi no bellissimo bellissimo anche questo brano voto al 2022 voto 9 a benissimo benissimo quindi ottimo quindi non vediamo l'ora di vedere il 2023 speriamo che abbiamo un bel 10 a questo punto anche perché appunto c'è questo album che potrebbe arrivare magari un tour quindi le prospettive ci sono sì il tour anche c'è nel 2023 da sicuramente da aprile sicuramente stiamo vedendo anche per per marzo però ci sono delle date che sicuramente insomma sono sono certe quindi si suonerà anche nel 2023 meno male eh sì infatti non vediamo l'ora soprattutto di vederti live in Puglia in Bari Lecce dove ti troverai no ma anche ma anche fuori anche fuori anzi forse soprattutto fuori dalla Puglia ti ringrazio ovviamente Cristiana per questa intervista è stato un grande piacere quindi non vediamo l'ora di ascoltare nuove cose quindi a presto Cristiana a presto grazie ciao 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 Alessandro ciao